L'autostrada Palermo-Messina a direzione Messina non sarà più regolarmente percorribile. La polstrada di Sant'Agata di Militello sta mettendo i sigili nelle gallerie Tindari e Capodorlando dopo il sequestro ordinato sabato dalla procura di patti per concreto rischio crollo a seguito della perizia di un ingegnere del Politecnico di Torino che ha previsto la possibilità di un cedimento a causa di infiltrazioni d'acqua entro la prossima primavera. Otto le persone indagate, tra cui sei ex commissari e presidenti del consorzio che gestisce l'autostrada e due tecnici. La soluzione al traffico annunciata dal CAS è quella di uscita obbligatoria a Rocca di Caprileone, rientro a Brolo, nuova uscita a patti e rientro a Falcone. Ieri il sopralluogo del neocommissario del CAS Corsello, nominata a ottobre che ha a Telecolor ha ammesso la carenza di manutenzione non solo straordinaria ma anche ordinaria dell'autostrada nelle precedenti gestioni. Oggi la polemica su un enter lo sbando d'anni, accuse di assunzioni continue di amministrativi, contenziosi record con dipendenti e aziende esterne, concessioni a prezzi bassi per le aree di servizio, dirigenti con contratti d'oro e un monte stipendi che copre il 45% degli incassi da pedaggi. Per questo, secondo le indiscrezioni, sarebbero venuti a mancare i soldi per garantire le manutenzioni. Le opere necessarie ammonterebbero a 114 milioni di euro, quelle appaltate da appena 16. L'ANAS ha avviato la procedura di revoca della convenzione, bocciata dai tardi Catania e Palermo. Si attende ora il parere definitivo del CGA, che potrebbe togliere al CAS la gestione della Palermo-Messina, della Messina-Catania e della Catania-Siracusa. Tra gallerie non illuminate, guarderai inadatti, asfalto e pavimentazione non idonee, un numero di incidenti è elevato, un bilancio nero che conta dal 2006 a oggi 13 morti e 400 feriti in 600 incidenti stradali. Il Consorzio ha continuato comunque a mantenere numeri da record in Italia, come quello che conterebbe due dipendenti per ogni chilometro di autostrada. La scorsa settimana il CAS ha consegnato i lavori per il ripristino degli intoneci della Galleria di Tindali, per una somma di 400 mila euro, oggi incontra il GP di Patti, per valutare la possibilità di un parziale dissequestro delle gallerie e procedere ai primi interventi di messa in sicurezza.